Ciao, benvenuti a tutti, andiamo a vedere l'oroscopo di ottobre 2024, andiamo a vedere il cielo del mese e poi andremo a vedere anche con le mie carte, con i tarocchi, segno per segno. Iniziamo guardando un po' il cielo, come stanno messi questi pianeti, poi vedremo ovviamente il tuo segno zodiacale in specifico. Allora dunque, la prima cosa che mi viene da notificarti è ancora questo Plutone che abbiamo visto già in settembre, è rientrato, è tornato indietro, è rientrato nel segno del Capricorno, è entrato in acquario ed è tornato indietro. Quindi tutto il mese di ottobre è ancora Plutone in Capricorno, Plutone in Capricorno che andrà a scontrarsi nel mese di ottobre, cioè creerà un'opposizione con Marte dal cancro. Quindi ancora vedremo un po' gli scenari che abbiamo visto in settembre, ora ne parleremo. Detto questo, Urano continua a camminare ovviamente in Toro, Nettuno ancora in Pesci, Saturno in Pesci, Giove inizierà il moto retrogrado verso il 9 diciamo, 9-10 di ottobre, Giove inizierà a camminare indietro come Gamberi, Marte tutto il mese di ottobre cammina nel segno del cancro e poi c'è Venere. Venere che apre ottobre nel segno dello Scorpione passerà poi 18-19 di ottobre entrerà in Sagittario, mentre Mercurio dalla bilancia giorno 14 ottobre entrerà in Scorpione. Il Sole bilancia Scorpione, quindi tanti auguri a tutte le bilance e a tutti gli Scorpioni che ci ascoltano e bla bla bla. Questo cosa ci dice? Allora la prima cosa ve lo dico perché l'ho pensato quello che sta accadendo anche a livello internazionale, a livello mondiale sotto gli occhi di tutti. Ecco, io insomma, sono qui che un po' preoccupatina la sono, quindi insomma, ecco, siamo tutti adulti, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Plutone che si oppone a Marte mi fa un po' parecchio di pensiero, però, 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 però nel mese di ottobre continuerà un po' questa situazione un po' caotica, no? A livello internazionale non vado nei dettagli, non vado a parlare, però, però, insomma, qui c'è anche uno splendido Mercurio dalla bilancia che va a fare questo trigono splendido con Giove dai gemelli. E io, io personalmente, io, Penelope, voglio augurarmi che questo cielo voglia significare, senti come la metto giù, eh, ok, voglia significare anche una, sì, uno scontro molto forte, però anche un abbassare un pochino i toni, ovvero sia, i toni saranno ancora quelli, ma io vedo un po' il dialogo. Ecco, questo voglio dire, qui un po' di dialogo, sinceramente, ci dovrebbe, ci dovrebbe essere, ok? Quindi un iniziare a dialogare, qui ci può essere un qualcuno che si mette in mezzo, insomma, che tenterà di fare da pascere, insomma, ancora un ottobre, insomma, un pochino così, almeno questo è quello che voglio, che voglio augurarmi. Comunque, detto questo, a livello più nostro, più personale, anche se generale, ecco, qui sicuramente il mese di ottobre ci può parlare, senz'altro, a livello personale. Non so, mi viene da pensare anche a dei contatti, a rivedere degli amici, a un cambiare la macchina, chi di noi può cambiare il telefono, chi finalmente può comprarsi quel computer che tanto desiderava. Ci può essere chi raggiunge un qualche grado di un qualche tipo, quindi una promozione lavorativa, chi si laurea, capito, chi supera, diciamo, un determinato esame, non so se un concorso, ecco, un qualcosa di questo, un qualcosa di questo tipo. Ora vedremo segno per segno, anzi, fammi vedere una cosa, con gli oracoli volume 1, voglio tirare anche una carta così, molto generica, eh, per il mese di ottobre in generale. Diciamo un po' che mese sarà, cosa porterà il mese di ottobre a livello proprio collettivo, poi andiamo a vedere, ovviamente, per ogni segno zodiacale, va bene? Vediamo, mese di ottobre 2024, ok, cioè, eh, di cosa vi ho appena parlato? Vi ho parlato di diplomazia, di vie diplomatiche, di parlare, no? Il messaggero, quindi di messaggi, di comunicazioni che arrivano, di sentire, risentire, di vedere qualcuno, a livello internazionale anche la parola, quindi il sì, uno scontro molto, molto forte, insomma, qui praticamente ci sono due parti, sto a dire il nome dei paesi, lo sappiamo tutti quello che sta succedendo, insomma, che fanno a chi ce l'ha più duro? Ecco, cioè, questi pazzi scatenati, va bene? Chiuso l'argomento. Ecco, io voglio sperare che questi trigoni di cui vi stavo parlando possano servire a questo Plutone, a questo Marte che si stanno facendo la guerra, possano servire per, ok? Come dire, parliamo, parliamone, ecco, il messaggero, insomma, mi sta facendo sperare, ecco, speriamo che questo voglia significare questo transito che ho visto nel mese di ottobre, me lo auguro per noi e per tutti, va bene? A livello personale, anche lì, lo abbiamo appena visto, è un mese, all'insegna dei messaggi, delle comunicazioni, ma visto c'è questo giornale, anche dello studio, chi di voi studia, ok, può superare un qualche esame, magari un concorso, eccetera, chi lavora può semplicemente fare un corso per lavoro, superare un qualcosa, va bene? Dunque, qualche tipo, poi lo vedremo ovviamente per il tuo segno zodiacale, andremo un po' a, un po' a vedere. Ecco, qui si può parlare anche nel mese di ottobre, con questo Mercurio che entra Scorpione, ma anche non sta venere Scorpione, con questo Urano, un toro, e questo Nettuno, pesci, insomma, Saturno, eccetera. Quindi, qui si può parlare anche di un mese che può portare, come ti posso dire, come tematica, come tematica, no? Quindi, come un discorso importante, prevalente, diciamo così, delle nostre giornate, qualcosa che riguarda la proprietà, mio e tuo. Quindi, chi di voi dovrà spartirsi qualcosa, si può parlare di buttare giù un testamento, si può, capito? Tutte cose di acquisizioni, quindi magari chi può acquistare un immobile, chi può ereditarlo, e bla bla bla, abbiamo visto. Ma io voglio vedere a questo punto, molto genericamente abbiamo visto, abbiamo visto anche un mese a livello, sia con le carte, sia con le stelle, per il cielo del mese, ci hanno parlato di un mese ricco di comunicazioni, diplomazia, comunicazioni, venirsi incontro, comunicare a tutti i livelli, in tutti i sensi, va bene? Ma adesso andiamo a vedere per il tuo segno zodiacale, andiamo. Allora, cari amici gemelli, per te un ottobre molto, no, sì, più che movimentato, qui ci sono tanti progetti, tanti desideri, voglia di fare, qui c'è voglia in primis, mi viene da dirti, questo desiderio di prendersi cura di sé, della propria immagine, quindi magari la voglia, no, di iscriverti in palestra, la voglia di prenderti cura di te, di andare un po' più dall'estetista, piuttosto che, ecco, va bene, magari si cambia un po' vestiario, ci si concede un qualcosina in più, insomma, proprio un desiderio, una voglia di, ora, apparire sembra una brutta parola, ma lo dico proprio nel senso positivo. Quello che mi piace è anche il cuore, quindi sicuramente un mese di ottobre pieno di contatti, no, abbiamo visto contatti, eccetera, messaggi, quindi persone che si fanno sentire, persone che vediamo, che sentiamo, amori che vivremo, nuove conoscenze che possono arrivare, ma anche l'intensificarsi di quelle che già abbiamo, e il lavoro. Qui vedo un momento molto bello per quanto riguarda il lavoro. Un iconeo si fa per dire, tu potresti avere qualcuno lontano che ti manca, o qualcuno che ora è vicino però si deve allontanare, no? Quindi un andare lontano, un recarsi lontano, però insomma, tant'è. Ma vediamo anche, partiamo con gli oracoli volume 1, se vuoi queste carte ti lascio il link giù in descrizione, o mi mandi una mail, insomma, come vuoi. Segno dei gemelli, mese di ottobre 2024, cos'è? Il viaggio. Abbiamo appena detto che c'è qualcuno lontano, o che è qui e si allontana, o che è lontano che viene, o magari tu siete appunto che tu vai. Quindi qui, il mese d'ottobre, vede sicuramente uno spostamento, se non è il tuo è quello di qualcun altro verso di te, insomma, ecco, qui siamo talmente in tanti. Comunque ora vedremo con i carocchi cosa ci dicono. Però ecco, quella lontananza tua o di qualcuno, va bene, il viaggiare. Ma ancora, siccome il viaggio mi richiama appunto, vedi, mi richiama il lontano. Qui ci possono essere delle comunicazioni, magari per lavoro, per l'amor di Dio, con qualcuno lontano, un amico, un'amica lontani, che tu vedi, che tu risenti e bla 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 bla. Comunque, teniamo a mente questo viaggio, ok? Io tengo a mente ovviamente le efemeridi, ok? Quello che ci dicono i pianeti. E andiamo a vedere i carocchi. Allora, per il segno zodiacale dei gemelli, cosa accadrà durante il mese di ottobre 2024? Segno zodiacale, gemelli. Gemelli, ottobre 2024. Qui c'è una donna che... Insomma, una donna un po' testona, che sembra non capire quello che noi diciamo, quello che noi facciamo. Può essere un'amica, una sorella, una professoressa, una collega di lavoro. Chi ti pare? Qui c'è una donna che ci farà girare un po' le scatole. Comunque, quattro di denari. Una donna giovane, eh? L'asso di coppe. Ottobre 2024. La torre. Ah, il quattro... Il quattro di coppe. Ok, vediamo. Per i gemelli. Qui c'è un bello scossone, eh? Qui la monotonia viene un po'... Esattamente, guarda. È l'otto di denari. Ma... E qui c'è il quattro di bastone. Uh, e le stelle sotto? Acide. Allora, guarda, ti dico una osa. Qui il lavoro andrà benissimo. Anche perché lo vedo proprio anche dalla... Dall'astrologia. Qui c'è un trigono bellissimo di... A parte la congiunzione di Giove, è un trigono bellissimo di questo Mercurio. Dalla bilancia. Quindi sicuramente allora, il lavoro qui va da Dio. Benissimo, tu continui a crescere e tutto. Qui c'è, continuo a vedere, la ristrutturazione di una casa. O comunque qui a questo pensiamo, questo stiamo a... Come si può dire? Stiamo progettando. Qui fanno vedere anche una casa, insomma, magari vecchia, insomma, no? Che vogliamo ristrutturare, che vogliamo sistemare. Ma quello anche che fanno vedere, che si vede in modo proprio chiaro, qui c'è anche la monofonia, questo stare in casa, questo sempre, le solite cose, le stesse abitudini, gli stessi... Che viene un po' scecherata con questa torre. Anzi, facciamo una bella cosa. Che cos'è quella torre? Fammi vedere. Che sa, a volte la torre è ganza, eh? Non è bene, arrivi, diciamo, insomma. Fammi vedere se ho preso il mazzo dal verso giusto. Gemelli. Mese di ottobre. Cos'è quella torre? Perché c'è la torre in mezzo, proprio lì? Vedi il 10. Ah, però. Ma, guarda, allora, la prima cosa mi viene da dirti, qui potrebbe essere una sorpresa che arriva anche dalla famiglia, comunque nel settore familiare. Se poi si parla di famiglia, queste sono amici. Diciamo affetti, va bene? Affetti molto, molto cari. Quindi persone che conosciamo da tanto tempo, eccetera, eccetera. Quindi qui ci può essere un litigio, o comunque un qualche amico, amica, credo, perché ho visto la figura femminile prima mischiando. Una persona che sembrerebbe anche abbastanza ottusa, cioè una persona che la non capisce, almeno in questa situazione, no? Quello che te tu volevi dire e tu volevi fare, che si potrebbe arrabbiare per un qualcosa, comunque non importa, qui poi tutto torna alla normalità, non ti preoccupare. Però ecco, tante, ci può essere questo. Però con questo mercurio, insomma, qui siamo svegli, gemelli, qui il cervello suo, insomma, va a tremila. Quindi il problema non te ne vedo, sinceramente. Quello che vedo c'è un po' questo cambiamento nella sua quotidianità, nelle sue abitudini. Quindi magari, che ne so io, arriva una situazione che porta a cambiare un po' quelle che sono le sue abitudini, le sue cose solite. E meno male, mi viene da dire, perché qui tu sei abbastanza fermo. Gemelli, un è da te. Gemelli è vivo e brillante, almeno nella testa, poi fisicamente è un altro discorso. Ma vediamo anche gli oracoli dell'amore. Capito, gemelli? Quindi qui, ok. Fanno vedere sicuramente molte comunicazioni, vedi, ti rivole indietro. Molte comunicazioni, magari semplicemente un'amicizia, un qualcosa con qualcuno che viene ripristinata, eh. Ti spia sui social, vedi qualcuno che guarda quello che fai. Quindi, forte innamoramento, se è un'amicizia, ovviamente, è un forte affetto da parte di qualcuno, lasciata andare il bisogno di controllo. Quindi io credo che qui ci sia qualcosa che tu hai fatto, che tu farai, dipende un po' dalla posizione del tuo sole in gemelli, diciamo, capito? Che scatena e smuove determinate cose. Comunque, qui ci sono grandi soddisfazioni per il lavoro, un viaggio che tu puoi fare, del denaro che arriva, un qualcosa di nuovo che riguarda la tua casa. Guarda, per assurdo, magari semplicemente ci può essere chi di voi grandi cambiamenti in vista. Vuol cambiare casa o riceve, visto questa forza, uno sfratto, per esempio. Capito? Qualcosa, noi siamo in una casa, c'è lo sfratto, comunque un qualcosa e non ci aspettavamo e dobbiamo cominciare, insomma, no? Ecco, a cambiare prospettiva. Vuole parlare. Qui ci sono anche dei messaggi, ma l'abbiamo visto nell'introduzione, il messaggero, quindi qualcuno che ci contatta, qualcuno semplicemente che rivedremo, risentiremo per un motivo X. Ecco. Quindi sicuramente in movimento, in questa torre c'è un qualcosa che inizieremo a vedere con occhi completamente diversi, in modo anche abbastanza drammatico, nel senso, no? Fum, fum! Un fulmine a ciel sereno, qualcosa che proprio non ci aspettavamo affatto, ma tant'è. Va bene? Ecco, ma diciamo il nocciolo per i gemelli, poi devi guardare l'ascendente, senza l'ascendente tutto quello che vi, non vale nulla. Li devi guardare tutte e due, mi raccomando, e poi metti un pochino insieme. Va bene? Perché l'ascendente può mitigare molto quello che ti sto dicendo qui. Li devi proprio incastrare insieme. Ok? Ora, il lavoro, ok? Tutto ok. Quello che c'è, c'è questo cambiamento inaspettato che può riguardare effettivamente la sua quotidianità, ok? Le sue abitudini, ma anche potrebbe riguardare, perché qui c'è l'edificio, potrebbe riguardare effettivamente la casa. Quindi è un qualcosa di inaspettato che riguarda l'abitazione. Quindi, non lo so, e che tu c'è un ballo se, vedi un pochino quello che tu hai in ballo e tira le conclusioni. Comunque, ecco, un mese bello per quanto riguarda, qui c'è questo giove ancora che ti protegge, insomma, dai gemelli, qui il desiderio, insomma, di prenderti cura del proprio corpo, del tuo corpo, della tua immagine, mi viene da dire, iniziando anche dall'alimentazione, per esempio, perché vedo anche quello, amori, contatti, conoscenti, va bene, ma anche il lavoro, che sicuramente andrà, andrà bene, ok? Andrà bene. e, diciamo così, contatti, viaggi, persone che vengono a te, che ti cercano, che ti vogliono bene, e bla bla bla. Poi tu ci farai sapere nei commenti, va bene? Gemelli, io ti ringrazio per essere stato qui con me, guardati l'ascendente e la luna, mi raccomando, e ti aspetto qua, su Penelope e le sue carte, al mio prossimo video. Ciao! Ciao!